Siamo con Valentino Magliaro, responsabile Canva per l'Italia e oggi siete qui a Didacta 2023 e presentate Canva Educational. Cos'è Canva Educational, Valentino? Canva Education o Canva per la scuola è la proposta di Canva per tutto il mondo dell'educazione, quindi tutto il mondo dell'istruzione, in particolare per il mondo, quello che viene definito K12, cioè il mondo che va dall'elementare alle scuole superiori. Ecco, noi per questa realtà, per questa platea, diamo Canva per la scuola gratuitamente e lo facciamo perché per noi la scuola è centrale in quello che noi andiamo a definire l'abilitazione creativa del docente, cioè dare al docente ogni singolo strumento utile per elevare la sua creatività. Crediamo davvero molto sul fatto che se un docente è creativo riesce poi a trasferire la sua creatività ai suoi studenti e lì si innesca un meccanismo di ispirazione che non ha fine. Come possono aderire le scuole quindi a Canva Educational? A Canva per la scuola tutte le scuole di ogni ordine grado, dall'elementare alle superiori, possono semplicemente andare sul sito di canva.com e alla voce scuola possono fare la loro application, quindi possono presentarsi e dire noi siamo una scuola, usiamo già Canva o non lo usiamo, vorremmo utilizzare Canva per tutto l'istituto. Come si fa? E dal sito di canva.com si apre un form, è un form online, è semplicissimo, in circa 10 giorni un team internazionale ti risponde, dà alla scuola tutti gli strumenti, tutte le informazioni utili per diventarlo, quindi per andare a configurare Canva all'interno della sua organizzazione, dopodiché vengono messi in contatto con me e con il mio team e andiamo a supportarli ogni volta che hanno bisogno per andare a configurare e poi quello che è Canva per il loro istituto.